Questa poi la salvo, dico, vittoria reale, compagni divisi, vittoria in solo praticamente, faccio così, compagni divisi, vittoria da solo. Sì perché poi quando mi hai sfruttato fuori la navicella, mica mi sono ritrovato in mezzo a due. Così poi vedrai tutto il casino che praticamente da lì sono partito e continuavo a incontrare gente, un po' le tattiche, l'improvvisazione della tattica, che ero lì, ero da solo perché poi, sai, a uno si fa spavarlo, ne vede due, ne vede uno, tanto sei con me, alla fine il supporto ce l'ho sempre. Ma quando sono da solo devi fare, allora, se sparo a quello lì, quello che è da solo, può essere che l'altro mi sciotta, e devo fare, e, 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 e quindi tutta la roba in testa avevo. Sembrava di essere tornato su Metal Gear 1, difficoltà a Big Boss. Ok, ti manca solamente quello della macchina da fare? No, quello del parola è raccogli i libri per, ehm, per neogenitori, da vivaio merdeggiante o corso con commercio. Ah, Platano Palpitante mi ha segnato la zona dove eravamo prima. Dobbiamo andare qua, comunque, o qua o a corso commerciante. Decidite. Ah, per me va bene uno dei due. Il problema è che questo è qua sotto. Vabbè, andiamo qua, Natale. Devo raccogliere dei libri, così almeno la completo tutta, perché sono cinque su cinque. La zona lì è qua, lì, con i cosi alieni. Ah, sì. Vivaio sì, ho visto, me la ricordo. Quella che ce l'hanno fatta praticamente tutta, senza fare un cazzo, e alla fine sono venuto a romperci coglione e non ho anche perso. Che poi avevamo gli alieni in testa, io riesco a mettere gli alieni in testa e me lo metto, perché io contro gli alieni non ci voglio, non voglio, non voglio far sfronzarti, sinceramente. A me non possiamo girarci la mappa bella tranquilla, senza che nessuno ci rompi il cazzo. A me non, per DNPC. Oh, qua dove sono io ci sono tre uova. Anche mai forse. No, ci sono delle piante alieni. Allora, qua c'è la salute. Si fermi, si fermi. C'è una pistola. Qui c'è una pistola. Uh, buono, già c'è lo scudo grande, diciamo. Allora, alieni, uscite per favore. Quando voglio alieni, porco Dio, no? Ecco, i libri, quando ho preso uno, me ne mancano due. Dove cazzo è sto alieno di me? La casca sopra. Oh, munizioni. Così. Ha tutto ad un tratto, livello 60. Ha tutto ad un tratto. E' zaffancazzo. Livello 60. Ah, che c'è la punta. Dai, io poi, quando voglio alieni, porco Dio. Te l'ho detto, dove c'ero io ci erano tre uova. No, ma anche qua da me, c'è, mi dice due uova, ma ne vedo. Abbiamo un continuazione. Aspetta, aspetta. Vediamo, vediamo. Che c'è? Ah, sta sopra. Perché ti libero la via? Poi gli dè scema. Eh, fatto, presi. Non cerca soltanto sti cazzo di coso. Non è un fucile impulse. No, che è un coso. Ok, allora, io uso una boccetta che non posso usare in questo partito. Dio, vola. Sta fa... Sta fa bambamuto di far fanatici che vola. Ma che cazzo è? Alla meno fa... Ma che è? Adesso, vediamo che è contento. È troppo bello. Quando fa sti cazzo di vestiti, dice, ma io cazzo. Ma c'è questo. E le viti? Si matto, delle viti. Allora... Vai, costruiamo questo. Che non ho capito perché dovrebbe avere 20 colpi se questa dovrebbe essere un'arma che è... che come minimo ha 45 colpi. Ah, c'è lo scrigno quello grosso. Da fare in due. Guarda, ho trovato ancora sti cazzo di... Ma che si chiama? Non ho ancora trovato sti cazzo di cosi, di libri. Me ne manca uno. Manca un libro. Hai già guardato qua dentro? No, qua dentro ancora no. Dove sei qua adesso no. Ah, ma c'è uno di quelli grossi. Boccepe grossi. C'è uno gnomo. Non so. Anche perché me li segna. Dai. Allora, questo lo largo. Giù. No. Ok. Vediamo un po' Vabbè, cos'è cerca qui? Matteo cerca. Ah, qua c'è la cassaforte. Mi chiamo ancora voi, gli so sinceramente. Cioè, chi si trova in un negozio, una cassaforte ha musso così in giro. Cioè, ho fatto 3,12.000. No, me la dà qua non c'è. Allora, un'altra parte. La casa guardamattica è già salvo. Salve, Alieno. Allora. Non so, ti devi guardare tutte te. Eh, punto. A te non te le segna. E no, dato che sta sfida l'ho già fatta. È sto casino, porco Dio. Oh. Esca, esca. Su. Oh. Alieno che mi blocca la strada. Ah, il mio cavo, il cassaforte mi dice che ce ne so quattro. L'ho trovato uno. Il coso dei naniti. Attacca il cazzo, perché sinceramente non mi interessa. Mi vede un'armadiena. Invece qua davanti, non l'ho visto. Ah, gli affichi di puttana. Chi è? L'alieno? Il computer. Ma se c'è il... Il coso non ho capito perché ti attaccati? Eh, probabilmente io gli avevo fatto danno per sbaglio quando ho fatto esplodere tutto. Eh, puoi, la ratta si può essere. Che non ti attaccano. Oh, cos'è? Un fucile a tempo tattico. Ah, adesso è testa di minchia. Ti devi ascoltare normale? Tanto comunque appena trovo il fucile lo tolgo. Perché non sono tipo da fucile. E' un botto di munizioni per il fucile d'assalto e invece... Sembra che sta scorreggiando la novicella lì. Allora. Allora, che cosa mi manca allora? Ah, da 30.000 non più niente. Da 30.000. Vabbè, spenti i lingotti. Non so se c'è qui. Abbiamo... Abbiamo quello lì vicino. Quello lì da fare. Lì... Vabbè, se no è l'altro libero perché ti riusciva a dire di percarlo? No, il libero l'ho preso, li ho presi tutti. Ah, ok. Già fatto. Distruggi gli arbusti. Mo, io so quali sono gli arbusti, quindi... Se non c'è nessuno che mi rompa il cazzo, lo faccio. A te che vado dall'altra parte. Questi qua sono gli arbusti, mi dico. Sì, con quanti cazzi gli arbusti mancano. Fatto. Ok. Non ne distruggo altri perché è inutile. Dov'è che era il... Eh, là in fondo il coso. È nella zona. È lo scrigno. Ah, beh, andiamo. Tanto abbiamo gli alieni qui. Sì, tanto comunque c'è il coso. Com'è che si chiama? Siamo comunque in zona. C'è uno scrigno qua dentro, invece. Pian, c'era un cazzo dentro. Ma assolido. Non che me la ricordo, sta zona. Quando il tizio... Un giocatore vestito da Iron Man ti puntava. Ma doveva andare questo? Sì, non. Ma lontano di questo momento, ti spara in aria Bonus personale Ah, cazzo Te la devi prendermi, te l'hai detto, d'ora, d'ora? La vuoi te, figlio, però Cazzo, vabbè, vabbè Eh, prenditi questa allora, perché io avevo messo quella a fuoco rapido L'avevo anche modificata con i chiotto Ho una pistola La pistola pesante No, la pistola normale Ah, quella normale C'è l'aria che livello è? Non come una Ah Manca di inzono Non lo vedo perché toglie 75 Ha una buona mira Ma sì, quello sì Quello sì, quello è vero Quello c'è un'ottima mira con la pistola Ah no Che è il computer È andato più a un colpo Ma che cazzo Ti sparano Io ho fatto un cazzo E ti sparo addosso Ah, è sempre l'alieno Però non gli ho fatto niente stavolta Ma mi sai che è sempre quello che hai attaccato tu Che sta vicino alla casa, stava Eh, allora sei quello lì Adesso vuoi che me l'hai stato attaccato tu? Eh, siamo in squadra Oh mira Questa zona me la segna in grigio La madonna Da dove cazzo spara quello? Guardalo, guardalo Salve Monumento scoprava C'era il monumento da E c'è un tizio lì Ma porco dio Ma perché spara da lì? Cosa cazzo vuole? Cioè Ci segue fin fuori Si fermi lei Fiore del sogno Che mi ha dato? Ma mi faccio un cazzo Dai, non c'è l'autista Ma manco morto Colpi il fucile Sono... No Ma perché non me li faccio la foglie Ah, me la fatti la foglie dopo Preciso? L'ho atterrato E' baffa il duro Il problema è che siamo a corto di... 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 Gli scudi grossi Eh già Ah no, è una gallina Affanculo Da fermo In piedi Eh sì, chi cazzo è un giocatore cifisso È una gallina Ma che cazzo di nome è? Porco dio Sono due nomi uguali Sì, quello giapponese poi Cleopatra È stata uccisa con un'arma raggi Inizione Non mi siamo belli Che stivassi in testa Sì, sti cazzo di occhi Vabbè la pistola però come l'hai fatta Ma l'ho trovata così Eh, l'ho trovata così? Ah no, ma la skin Io l'ho messa io, sì E quando metti la skin Poi qualsiasi arma trovi Te la dà su tutte Ma io non gliela metto mai La skin sull'arma Ma sì Mi piace questa Cioè almeno se non trovo Magari sai una di quelle Che si muovono Allora sì Ma Tipo mi ha dato quella Di Reignita Quella oscura Ma non è che piace la pietà Eccodio Dove cazzo per andare? Eh sì Quante galline che ci sono Ma che? Ah c'è uno scrigno qua No, non c'è niente Non c'è niente L'ingotto Qualcosa Ma tra gallina Ah, gallina aliena Salve, batti 5 Ah no, te c'è la letta di polra Ma perché ci sono macchine Capovolte Ma la gente va sbatterci su Ah ma Dovevano far scena Far vedere che Gente che si capovolta Come nei film Aspetta, aspetta, aspetta Siamo in zona Ma non c'è nulla Dove me Oh, c'è un cespoglio Ma sì, magari Possiamo vedere pure Magari se ci sono i giocatori Nelle vicinari Al ponte è libero Oh, abbiamo uno vicino Ah sì, giusto Eh sì, perché poi Ecco, sta sopra Sta sopra È sopra la collina Praticamente È uno da solo Perché siamo nove Quindi È forza in Ok, niente Si sta affrontando con gli altri Stavo lì su Tanto vuol dire che gli altri Verranno qua Eh sì, per forza Sono sicuro di qua Io controllo Nelle vicinanze Dopo lo hai auguri A mia sorella La forza E poi Beh, certe volte Non so come cazzo Facciano le persone A sapere che noi Siamo qua dentro Insomma Cioè, non ci muoviamo Tu devi entrare dentro E però sanno dove sparare Per dove sei Magari sparano a cazzo Perché si vedono dei danni Continu Mh Siamo in otto Mh Vuol dire che È morto Quello lì è morto Questi stanno ancora Ma che cazzo È da dietro Eh ma dietro di noi Sono da tutt'altra parte Questo Lo spado Sembra più vicino Sì È morto proprio qua davanti a noi Ah già È vivra È vivra Sì Ha vivrato il joystick Non capisco il perché Ok Ne è rimasto un altro Siamo sempre in zona Ecco eccolo L'ho visto Uno è lì Davanti a noi Tra le due facce Qua davanti Ho visto proprio Che era sulla collina Adesso si sta raccogliendo la roba Che vuoi fare? Viene verso di noi Allora lo ammazziamo Vai Morto Oh c'è che vedo Vedo un po' Se c'è qualcun altro Per cazzo Sfiga però Ti sto osservando È proprio Max Poi si chiamava Bellissimo Allora Qua c'è questo Che voglio prendere E questo qua Che tolgo E rimetto quello sotto Ah ti ha cons... Ah no Ti ha preso un po' di Un po' di cosa Prima aveva tolto un po' di scudo Ma Ah è da chieno che fa sto cazzo di aluone Diciamo ma che cazzo è Uno in the dark Eh siamo due contro due Siamo Eh il problema è capire Do stanno questi Quello è vero O sono qua sopra Che ci aspettano È tutto buio Non si vede più un cazzo Ah no ecco Ecco lo visti Lo visti Lo visti là in fondo Vedi vedi quello che corre Là in fondo Ma è uno solo Per il momento Quindi non sappiamo Se magari sono uno e uno E siamo noi due O non si sa Non lo so Vabbè nel dubbio Attendiamo qui Ah si Vabbè qua c'è anche un altro Cespuglio Magari abbiamo una visuale migliore Ma sopra? Beh Se uno è la sopra Siamo fottuti Se uno è sopra la torre Se uno è sopra la torre Vede Da ogni dove La controllo sempre dietro È bello perché Siamo in alto Quindi vedo Oltre la sede Non dove neanche Mirare Vedo oltre la sede Se si sta sparando Perché è da solo Allora Sono uno e uno Eh si Quello si Tollo e me Capire l'altro Dossa Schiena Se stava sparando Stavano tutti due di là Allora A meno che non ha sparato Apposta Per far Attirare il nemico Adesso Siamo Se sarebbe tornato Utile un cecchino Allora di qua Io non vedo nessuno Dietro di noi Insomma Eccolo là Ah sta venendo da noi Che si fa E' dentro la casa Ecco eccolo C'è un altro dietro Subito Allora sono insieme No Sì Sì Siamo sempre in zona Eh che vuoi Eh stanno costruendo Che vuoi Che facciamo Eh non so Dimmi tu Uno sta venendo verso di noi Mi sa No è lei che fa Avanti io tu sulla scaletta E l'altro invece costruisce Eh se riuscissimo ad ammazzarne almeno uno Eh sì così almeno l'altro va dall'alto Andrebbe dall'altro Fa perché fa tutte le cose di metallo Eccolo più o meno Oh ma mi ha visto Ma come cazzo è Ok uno è a terra Ok Ecco l'altro è sotto L'altro è sotto Non ha capito Che il cazzo è Preso Abbiamo visto Stava sotto A meno che l'alone dell'alieno Non si veda attraverso i cespugli Eh può essere Può essere Anche quello è vero Può essere E niente Se l'è vinta l'altra Io con una singola uccisione Però Allora